Rifornimento per Davide! Po 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 po! Poltro neri! Un basso di poltro ma grandissimo al palo di no! Quanto Castelli da tre punti fa... Ricchi! Castelli! Un gran palo di no per gioia! Vieto la schiena! Pollicine qui il carnero! Vittorio! Vittorio! Non va, finisce qui! Inizio nei bocchi il trucco lo si mette un spasso verso Riccardo Castelli che lascia sul posto difensore! E nel metto e due bentornato Ricchi Castelli! All right! Mmm, yeah!